ciao oggi è un video velocissimo sono appena tornato a casa senza fiato perché ho fatto pure le scale di corsa ho fame ho sete devo andare al bagno di tutto di più una giornata poi ho iniziato a malissimo mi sono pure messo la maglietta senza stira ma penso che non si vede perché è nera tre ore di traffico sono al supermercato e volevo il mango e da stamattina che ho il mango in testa però tutti i mango erano tutti acerbi praticamente cioè faccio prima se me lo prendo uno c'è un minimo una settimana prima di diventare maturo faccio prima a piantare un seme e aspetta che mi cresce l'albero sempre se crescono sul lato i mango quindi insomma è una giornata proprio del merda peggio di così oggi non so che può succedere tutto il mio cuore è il vostro del mio cuore è tutto il mio cuore fino a merda in più c'ho pure c'ho pure il collineo del piano di sotto che tutto il giorno che canta alle mamma io dico che almeno cantasse bene comunque video velocissimo sulla spesa ho preso un po' di cosette sono andato all'emmd perché sono due cose a volo e tre cose essenziali non ho preso cazzatine e incominciamo scontrino allora ho preso queste sottilette praticamente sono 16 fettine 400 grammi e le sottilette costano queste vengono 1 euro e 49 lo scrive macabre e oggi volevo cancellare una giornata del cavolo che poi mi sono sempre chiesto ma come fanno per esempio quelli che fanno i video che sono sempre tutti i riusci stupendi tutti i figli tutti i riposati di lassati ma solamente io faccio i video in cui sono stressato e esaurito poi continuiamo se vedi che forse mi fanno un cazzo di tuo giorno i fiocchi di latte questi mi mangio sempre con un po' di insalata o qualche verdura testa se vengono 50 centesimi poi scottex queste vengono 1 euro sale in offerta poi dentifricio questo 99 centesimi questa mermellata di mirtilli neri biro 1 euro e 99 si chiama un pochettino e sono 230 grammi io di solito la marmellata all'emmd non la prendo mai perché fa schifo l'ho provata qualche volta un po' di diversi tipi faccia tutto schifo la prendo all'essia lunga o alla coppa però volevo provare questa di mirtilli biologica e la proviamo quindi gli do l'ultima chance altrimenti la marmellata dall'emmd non la compro più poi due di yogurt al cocco queste penso che uno oggi ci faccio merenda e questi vengono 22 centesimi due tappi di gallette queste di maestro che mi piacciono parecchie perché sono più sfiziosi sono più croccantine poi di meno sennò sempre quelle classica un po' noiuse queste qui due che sono quelle sempre dico meglio da venire meglio sono roba da venire meglio mi piace e queste vengono 69 centesimi poi 8 rotole di carta igienica 1,99 fondi e champignon 1,69 poi il baratto di pomodoro questo mi piace parecchio sta marca mi piace gustato e questi vengono 39 centesimi costa niente però sono buona mi piace la qualità poi i pisellini 1,29 la confezione di arrosto di tacchino questo della fattoria senza glutine che viene 1,49 poi salane ventricina 1,29 questo è un po' piccantino mi piace un po' spesso che non è male e poi questa spalla cotta senza glutine che viene 99 centesimi al salame veniva 1,29 questo è un po' piccantino poi la cena di questa sera cosciotti di pollo 3,36 questi sono un chilo e 125 grammi questa è la mia cena poi di tutto a chi ti sgombro 99 centesimi questo le mangio bizzeffe durante la settimana poi mi ci faccio un po' di riso bianco vicino magari a qualcuno mi farà schifo però devo dire che questi con un po' di riso bianco e un po' di limone io ci fanno matto e costa 99 centesimi poi il formaggio grattugiato 50 centesimi 100 grammi poi la feta che può mancare mai io me la metto nell'insalata e ci faccio le omelette 1,79 questa è questa marca della md mi piace insalata mista 500 grammi questa che è 1,99 un gussone che io tutti i giorni mangio tutte le sere mi piace mangiare l'insalata una cosa che non deve mai mancare vicino ai secondi per me è la verdura assolutamente carote 1,99 io ho un periodo che sto proprio confissando le carote cioè me le faccio lesse mi mangio vicino al pollo anche con il riso bianco mi faccio un po' di carote lesse con un po' di tonno sempre pensai quando i ragazzini mi facevano schifo mi dicevano mangiare le carote proprio minate a umidà però hai visto quante volte capite quando tu per venti grande poi non gli gussi ti piacciono le cose che i ragazzini mi hanno fatto sempre schifo poi banane 1,75 euro queste assolutamente per le mie frullate per la merenda peperoni corno questo 88 centesimi che mi piace metterlo nell'insalata questi peperoni sono buonissimi mi piacciono nell'insalata a culo kiwi 1,18 euro questa è la merenda limoni 1,29 euro io senza limoni non potrei vivere perché li metto nel tè li metto sopra la verdura di essa li metto nell'insalata li metto ovunque cioè limoni assolutamente dunque limoni biologico 1,29 euro torno al naturale 1,19 euro finito questa è stata la mia spesa rapida della settimana penso che questa è una settimana più bassa quindi eccomi io adesso io mangio vado al bagno faccio tutto quello che devo fare e poi ci vediamo al prossimo video ciao drop the beat ciao 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 ciao